Perse un pallone in maniera banale, quello sì, proprio, infatti l'avevo detto subito all'inizio, la differenza la faranno i due e ci trunciamo. Il gol di Piotr Zelischi che porta in vantaggio il Napoli a San Siro e ovviamente un gol che, insomma, dice, gol del Napoli, Inter già spostata a 10 punti, diventa un Inter fuori dai giochi, insomma, un po' magari non vedrebbe da questa. Non sapete nulla, è che non è nulla. Io su questa teoria...